Buon pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene! Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Amiche, oggi un unbox super carino con la vostra streghetta Lallix in versione estiva! Avete visto che carina? A parte che scende un po' e non mi piace che vada troppo giù. Però la trovo super carina. Questa magliettina, non mi ricordo, tu ti ricordi dove l'avevamo comprata? Mi pare quasi di averla comprata al supermercato, sinceramente. E ha così un volantino, è semplicissima, però è super comoda perché è super mega elasticizzata. Ha questo volante e io ho messo gli elasticetti abbinati delle trecce. Secondo me ci stava un sacco bene con il make-up di oggi. Sì, è lo stesso colore. So che con il lip gloss o il rossetto nei toni dell'azzurro, amiche mie, vi sembro Laura Palmer, in Twin Peaks, lo so. Che sai che era quella morta? Il cadavere di Laura. No, non lo so. Eh, tu non lo sai perché sei troppo piccola. Però io, benché fossi piccola, sapete amiche che il mio nome di battesimo, il mio nome diciamo di nascita, il mio nome vero è Laura. Quindi, la vostra amata streghetta Lalix, da piccola non amava il suo nome per tantissimi motivi che magari quando abbiamo il tempo vi dirò, però anche e soprattutto perché mi chiamavano Laura Palmer, appunto, perché mi chiamavo, mi chiamo, ancora, chi mi chiama così mi fa un dispetto, ma insomma, vabbè. Ok, questa è un'altra faccenda. Comunque, mi chiamavano Laura Palmer, ok? Uno perché avevo le occhiaie fin qua giù e sembravo morta da dieci milioni di anni. Eh, ma che? Eh sì. E avevo questo aspetto un po' cadaverico e la, diciamo, ero troppo bianca in confronto agli altri e anche un po' verdognola, insomma, un colorito per niente, diciamo, che ispirasse la salute. Non ero bianca come il muro, però non ero neanche di quel bel, sapete, abbronzato, come nelle pubblicità, tipo, mi viene da dire, di Ambra Soler, com'è che si chiamano quelle di là, biscottate, dorate, atomiche, io tutto tranne che atomica, ovviamente, e quindi mi chiamavano Laura Palmer. Effettivamente ci sta che il rossetto in colorazioni azzurrine tenda a farci sembrare tipo morte senza circolazione in ipotermia. ci siamo, capite che sono d'accordissimo con voi, però mi piace innanzitutto per giocare, provare, e poi mi piace proprio, l'ho tenuto tutto il giorno, e devo dire che di solito si dice che con il lip gloss celestini i denti sembrano più bianchi, appaiano, secondo me non è vero, su di me sembrano più gialli. Fatemi sapere nei commenti se è vero oppure no questa cosa su di me. con il lip gloss, a parte che vi sembro Laura Palmer, sembro morte, però vi sembrano i miei denti, che è una cosa un po' forse un po' carina, però vi sembrano più gialli o più bianchi? Perché se io me li vado più gialli invece che più bianchi, secondo me mi fa l'effetto contrario, non sto lì a fare la faccia come lo stregato, che non mi sembra elegante, no? Sì. L'ha fatta la regista dall'altra parte. E oggi stiamo parlando di lip gloss e di rossetti perché abbiamo un unbox, finalmente i lip gloss mi sono decisa amiche. Non li mettono in offerta e va bene, basta, non me ne frega nulla, li ho comprati a prezzo pieno, tutti e sei. Tadam! Ciappa! Tutti i sei colori, dallo zero al cinque. Li ho presi tutti, non vedo l'ora di provarli con voi nei video della mattina. e adesso se non sono plumping li swatchiamo nella mia mano. Se sono plumping, però secondo me non sono plumping. No, neanche secondo me. Vero? Li trovo così belli, ma così belli, hanno delle shade che sono pazzesche, sono anche molto molto tentata dai nuovi lip gloss di Revlon, però costano veramente tanto, amiche sono una rata di mutuo, li avevamo visti assieme, cos'è quello sconto? No, io mi ricordo questi qua, quelli non mi ricordo. Sì, ma questi sai che sono messi di qua e nelle spalle? Ma quelli altri che hanno il bullet? No. No, lip gloss, fatti come quelli di L'Oreal, lunghi, così, come tutti gli Alice, li abbiamo visti assieme, cos'era? Sì, non mi ricordo il prezzo. 13,90, so che tu mi hai detto, eh no, costano tre, non comprarli, perché poi ce n'erano sei e io sognavo di prenderli tutti, sei, sette, otto, non mi ricordo. Però ho fatto un rapido calcolo e ho detto, se li mettessero un po' in offerta, perché mi pare che il prezzo sia 15,70, erano tipo un po' scontati dal negozio a 13,90 ed era lo stesso molto, perché 13,90 per otto comunque... Non erano sei. Eh non lo so, mi pare che erano tanti, o sei, o otto, facciamo finta che erano anche solo sei, comunque sono 60 euro più tre, sei per tre, 18, 78 euro, visto quando si tratta di soldi, la vostra streghetta preferita come veloce a fare il conto, 78 euro mi sono saputi tanto, tanto, tanto costosi. Quindi ho preso questi, che sono sempre sei, ma costano a prezzo pieno 6,90 euro, sempre molto, nel senso se costavano 4 euro era meglio, però insomma 6,90 diciamo che non è una cifra esagerata. Sette, facciamo finta sette, sette per sei? Eh? Eh, il 42, sì. Quindi li abbiamo pagati, dobbiamo togliere diciamo una monettina da 10 centesimi da ognuno, quindi invece che 42, hai detto? Invece che 42, 41 è qualcosina, no? Non i tuoi calcoli, non riesco a seguire, tu fai i calcoli, sei strano. Velocissima, ok? Comunque, 40 e poco più euro per 6 lip gloss, perché alla fine questi sono tutti lip gloss, non sono tinte labbra e sono sinceramente, già ve lo dico, atomiche. Sono delle shade, secondo me, bellissime e portabilissime. Ovviamente, amiche, una cortezza le potete, fregatevene un po', se avete l'occhio di un colore, il capello di un determinato colore, se a voi piacciono tutte le shade, voi le comprate e poi le usate. L'unica cortezza da fare è di abbinare un po' l'eleganza dei colori, no? Perché? Se vi fate un po' la base, diciamo, più neutra, fredda, allora potete usare con le shade rosate. Ma se invece fate una base un po' più calda, potete utilizzare tutte le shade, quelle dei nude caldi, ma anche i rossi caldi, se no, anche i rosa, quelli, diciamo, meno freddi, un pochino più pescati caldi. Se invece avete fatto una base molto neutra, fredda, potete usare i rossi, quelli molto, diciamo, belli, accesi, ma che tirano sul freddo. Ovviamente, abbinate bene anche l'ombretto, perché secondo me, alla fine, poi, io non è che sono bravissima a abbinare, però ci provo e devo dire che con i vostri consigli, più passa il tempo e più i risultati mi piacciono. Perché anche i nude, no? Facciamo un make-up, diciamo, con l'ombretto dei toni nude, però se usiamo dei nude caldi, allora ci sta benissimo un lip gloss più sui toni caldi. Se invece usiamo un nude più freddo, una palette di nude freddi, allora ci saranno benissimo dei rosati freddi come lip gloss. Stessa cosa per tutti i colori, perché ci sono dei verdi che sono caldi, dei verdi che sono freddi. Invece gli azzurri, secondo me, sono più freddi, no? Gli azzurri, i blu. Forse qualche blu particolarmente scuro riesce a essere anche abbinato a dei lip gloss, a dei rossetti con i toni un po' leggermente caldi, ma non troppo, no? Ma è già difficile. Però i verdi sì, i verdi sono sia caldi che freddi, a mio avviso. L'arancione anche, non è detto che sia sempre caldo o freddo, perché ce ne sono tantissime tonalità. E però l'arancione, anche se è un po' freddino, ci sta sempre bene con magari un rossetto nude, oppure anche con un rossetto aranciato, pescato, secondo me. Quindi, se vi va di comprarvi questi oppure altri, e di provare però tutte le shade, non vincolatevi al vostro sottotono. Fregatevene, la vita è una sola. Fate abbinamenti, sperimentate nel make-up. Io sono molto felice di essere camaleontica e provare sempre abbinamenti che alla fine durano una giornata, non di più, perché poi comunque mi strucco e inizia una nuova magia di colori il giorno dopo. Io direi che adesso li apriamo e speriamo che siano bellissimi, perché comunque costano 6 ore 90 all'uno. Allora, abbiamo inquadrato i numeri prima di tutto? Sì, 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 abbiamo inquadrato i numeri. Carini sono carini. Vediamo una magia qua, sospesi in aria quelli centrali. Qua, super forzuta la Lalix. Adesso speriamo che non ci sia lo scotch e soprattutto speriamo di riuscire a togliere il sigillo di garanzia in un modo un po' veloce. Eccolo qua. Allora, questo diciamo che è l'unico che non swatcherei. Sì, perché... È perché ho stato tolto il sigillo di garanzia allora. Perché dopo rimane la colla, magari. Brava, intelligente la nostra regista. E si chiama 00 Glass... No, gloss, gloss a fair, glasses, no, glass, glass. Ce la posso fare? Glass o gloss? Allora, si chiama 00 Gloss a fair. È perché il nome è di tutto. Gloss, ah giusto, gloss a fair è la linea dei lip gloss. Il nome è glass perché è vetro, è trasparente, ce la possiamo fare. Quindi si chiamano tutti gloss a fair, ok. Questo è lo 01 e si chiama Honey Kiss, quindi bacio al miele perché è un po' giallino, giallino. Vediamo immediatamente su... Ah, ho tolto anche il sigillè, aspettate, aspettate che lo stacco se non la colla. E cosa volevo dire? Non mi ricordo. Hai guardato che non sia plumping, magari. No, vabbè, adesso lo scopriamo. Ok. Allora, se mi si inizia a urticare la mano, è plumping. Beh, è bellissimo. È proprio profumato. Sì? Sai che sa di caramella? Guarda, opla. Ah, che buono. Volevo fargli annusare la mano perché si sente di più che da qua. Vero, sa di caramellina. Scusate il rumore, sono crollati tra gloss. Eh, appunto. Molto buona la profumazione, bravi, perché per me già un gol, ma grande, sta nella profumazione. Amiche, se puzzecchia io non lo utilizzo. Infatti ne ho la uno che mi fissa che puzzecchia e non ho il coraggio di utilizzare. Buono, sa di caramello un po', di caramellina, ma anche di caramello. E il colore è molto, molto bello. Quindi il primo ci piace, lo utilizzo tantissimo. Sì, è quasi trasparente comunque dopo quando lo metto. No, no, no. Io ne metto. Sai glitter? Sì, guarda com'è bello. Si vede, sai, qua. Toc. Guarda. Sì, sì. Si vede, sì. Ma non è dopo che quando lo stendi magari diventa. Ma io ne metto un chilo. No, no, io ne metto, mica risparmio. Zero due, toffi rose. E tacche te. Questo mi sa che non è... Hai sigillino? Eh, appunto. Appunto. Togliamo il sigillino, oh 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 oh. Togliamo il sigillino, oh 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 oh. Questo è senza glitterini, mi sa, infatti. Via. Beh. Bello. Allora. Inquadratura con lui. La profumazione. Lei. Egli. Bellissimo. Sì, sì. Profumano tutti de bono. Allora. Sì. Zero tre muffin. Bello. Ma quindi questo avrà un odore diverso. Mi sta venendo il dubbio. Perché adesso, siccome era vicino all'altro, non è che... Magari ha un odore diverso. Sì, mi pare che abbia un odore diverso. Adesso sono suggestionata, non capisco. Sì, questo è un odore diverso. Allora, forse anche l'altro, aspettate, aspettate, perché io, mio naso cessa subito l'attività di snasatrice, dopo poco. È messo. È diverso. Ripassami l'altro. Boh, io lo sento uguale al primo. Questo? Il terzo, invece, muffin. Boh, questo mi sembra leggermente più profumato, però più o meno circa. Allora, lo facciamo muffin. Beh, fatto bene a comprarli. Inquadratura. Beh. Belli, sì. Ma che gol. Meno male. E io avevo un po' di dubbio, perché mi sembravano cari. Che sigillo? Quattro, milky pink. Quindi latte rosa. Il sigillo. Ma sai che mi sento felice di averlo, di aver rischiato? Mh. E non li ho annusati lì, che li annuso sempre? Perché ormai sono convinta che mi piacciono, no? Quelli di Bella oggi. Io lo sento diverso. Sento latte. Mo mi ha detto, milky, io sento odore di latte. Lo senti? Sì, questo hai ragione, sì. Quindi hanno il profumo del loro nome, vabbè. Mi sto spaccando. Bello anche questo. Bellissimo. Belli tutti. Allora, sono portabili. Questi sono un must have, te lo dico. Mi ricordano i Fetoyla di NYX. Bellissimo. Cherry, Kiss. Vediamo se sa, questo lo sentiamo subito. Faccio la ciliegia. Questo lo sentiamo. È inconfondibile la ciliegia. Sai di ciliegia o no? Perché con gli altri potevamo anche un po' sbagliarci. Manco per niente. Secondo me sa di caramello. Vediamo. Non sento più niente. Allora, sono tutti uguali. Sa di caramello. Hanno tutti questa... Sa di caramello. Sì, sa di caramello. Non sa di ciliegia. Se vi piace la ciliegia, vi dico che secondo me sa di caramello. Vediamo. Ah, questo è molto simile. Aspetta, ne metto un po' di più. Ma no, guarda che c'è già lì. Sì. È un po' più... Aspettate che lo chiudo. È più caldo questo. Appena appena più caldo. E direi che sono comunque molto carine. Io adesso volevo far così, ma non ce la farò mai. No. Impossibile. No. E come faccio? Volevo fare... Eh, metti... Lasciali là e metti la tua mano a... No. Guarda. Fa un po' appunto rotto. Speriamo di no. L'ho rotto? No. Per adesso non l'ho rotto. Speriamo che si inquadrino bene. Amiche, fateci sapere se le inquadrature fanno caghe o sono belle. Perché noi ce la mettiamo tutta, 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 in tutto, tutto, tutto. Sia nelle inquadrature, a fare degli swatches decenti. Potevo lasciare quello trasparente giù. Così, no? Che non mi serviva. Così ce la potevo fare senza crepare, no? Vedi? Ma io non brillo per spiccaccia e per furbizia, no? Allora, io direi che 40 euro per... Se a voi non vi serve quello... Io l'ho preso perché, mica, segno della vergine, gli urtava l'anima averne presi 5. Vabbè, ma come numeri avresti comunque avuto 1, 2, 3, 4, 5. L'ho pensato. Quindi non ti avrebbe urtato più di tanto. Però mi urtava sapere che c'era, io non l'ho preso. Però, boh, mi sembrava di prenderlo un po' per nulla perché comunque trasparenti ne abbiamo. Però poi ho detto, ma vabbè, ma che mi faccio? Cioè, come... Mi ho appiccicati qua. Sono belli anche qua. Sì, ormai mi sapeva che fatto 30 faccio anche 31 perché la prima, il primo giro ho comprato questi ed ero contenta. Poi sono riandata e ho visto che era arrivato questo. Li ho presi al tigotà, non vi ho detto. E ho visto che era arrivato e ho detto, ma sì che lo prendo, dai, lo prendo. Però se a voi il trasparente non serve, vi volete comprare questi, avete, diciamo, 6,90 euro in meno di spesa. Quindi, 7 per 5, 35, un po' meno di 35. Con 34 euro e due monetine, no? Eh sì. Ce l'ha fatte. 34 euro e poco più. Io direi che io li promuovo e a sorpresa gli do il tastone, quello per i cagnolini, rosa. Wow, meravellissimo! Sapete che non votiamo col tasto per tutti gli unbox make-up. Solo quelli che ci spettinano tantissimo. E devo dire che questi gloss di Bella Oggi mi hanno letteralmente spettinata, lasciato sbalordita, bocca aperta. Non immaginavo che potessero essere così belli. Ma io amo tantissimo questo. Guarda, ve lo porto perché secondo me è tanta roba. Io sono innamorata alla follia di questo. E quando non so cosa abbinare, perché ho magari un make-up occhi troppo acceso, troppo marcato, lui è la soluzione perfetta. Che mi fa sentire una dea bellissima. Che poi io, amiche, cioè sinceramente, non è che sono sta roba atomica. Però io in realtà mi sento, capito? Mi sento bene, mi sento proprio una dea, tipo una fattina, una principessa, una roba così. Quando ho questo look magari tanto acceso negli occhi e non voglio caricare le labbra, ma non voglio mettermi quello trasparente tipo vetro, oppure un semplice plumping e basta, do un tocco di questo che ho il terrore di quando finirà. Quindi ne uso poco alla volta. Però mi piace tanto. E spero che questi mi piaceranno. Devo dire che questo è un parente molto vicino. Per quello che ho detto che mi piacerà tanto, lo utilizzerò tanto. Peccato che questi non hanno i glitter. Perché io, amiche, sono la madrina dei glitter. Mi piacciono tantissimo. Probabilmente in un'altra vita ero un unicorno, ve lo dico. Mi piacciono tanto i glitter. Se si potesse, neanche i glitter, perché non sono i glitter grossi. Cioè le pagliuzze iridescenti, un po' cangianti, mi fanno volare. Quindi, che dire, super promosso. Per me è un dieci elode atomico. Speriamo che facciano altri 960 milioni di colori, perché sono veramente bellissimi. Bellissimi. Avrei voluto un lilla. Lo so che non lo pensavate che lo dicessi. Ma un pesca e un lilla mi sarebbero piaciuti tantissimo. Anche un arancione. E un rosso carico. Un rosso fuoco gloss. Quindi tre colori li avrei aggiunti io, se fossi stata in loro. Ma non sono in loro e quindi non aggiungo proprio un bel niente. Amiche, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei nuovi lip gloss di Bella Oggi della linea Gloss Affair. Tutti i vostri pareri. Se li avete già provati e vi piacciono. Se non li avete già provati, cosa vi sembra del nostro swatch, dei nostri swatches. La mia fast impression è super super positiva. E sono curiosa di sapere anche la vostra. La parola segreta di oggi è 10 e lode. Non può essere un'altra, diciamo, una parola diversa da questa, perché l'oro 10 e lode oggi. Se lo sono meritato veramente, cioè, tutto. Se lo sono meritati, tutto alla grande. Brava Bella Oggi che continua a stupirci, ricordiamoci, con piccoli prezzi. Perché non è semplice, secondo me, creare così tanto make-up a piccoli prezzi e continuare a migliorare nel tempo sia le formulazioni, perché amiche non hanno nulla da invidiare, secondo me, le cipre come tenuta. Io non so dirvi i componenti, sono totalmente ignorante, ma spero di riuscire a studiare e documentarmi e essere in grado anche di, forse, dire qualcosa di intelligente anche sugli ingredienti. Ma al momento non lo sono. Io posso dire la tenuta, tipo la cipria ha una tenuta atomica, mi fa una base bellissima. Il primer mi sono trovata benissimo. La tenuta del rossetto, anche il plumping, dice due ore, o due ore dura, dura due ore. Non dura un'ora e mezza. Non fa plumping tre ore, due ore dice due ore dura. Io l'ho cronometrato a orologio. Su di me, pizzica per due ore. Dopo due ore di orologio precise, non pizzica più. Non neanche avesse il cronometro. Davvero, davvero, io sono rimasta abbasita. Quindi, nel tempo, l'unica cosa che ha floppato è la palette di glitter, che abbiamo provato questa mattina. La palette con quattro glitter, di cui uno top coat e tre glitter, quelli non attaccano con niente. Devo provare con la colla per glitter, perché col primer, amiche, è un flop atomico, assurdo, e quindi, niente, che dire. Mi raccomando, la parola segreta di oggi è dieci all'ode, e l'imoji di oggi potrebbe essere, tipo, non lo so, se c'è un emoji tipo... Cioè, c'è quella tipo col cento e... Col cento, che vuol dire tipo bravissimo, no? Mi raccomando, se mi volete fare contenta, mettete like al video, perché abbiamo sempre l'obiettivo di arrivare a mille like in un video, per sbloccare la presenza del marito sul canale, e così verrà anche lui di qua a fare i video insieme a noi, e lo potrete finalmente conoscere. Ma, soprattutto, mettete il commento di Eci e Lode, l'imoji cento, e anche tutte le emoji carine e coccolose che vi vengono in mente, così da coccolarci un pochino. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No. Allora, amiche mie, io vi ricordo anche di iscrivervi al canale, se non siete già iscritte, per non perdere i prossimi video. E come dico sempre, io l'iscrizione è gratuita, e ci rammancai a Tragosaaburu. Come sempre vi mando un bacio grande, 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 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, amiche, buona serata, fatele brave!